Buona serata a tutti e ben ritrovati. La trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo continua dalle ore 19 alle ore 20, forse 20 qualcosa, poi dipenderà, vedremo. Con la lettura del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la quarta parte. C'è la quarta parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, che tratta della relazione fra Gesù di Nazareth e i farisei. Questo pezzo parte dalla considerazione che tutte quelle che sono le relazioni fra Gesù di Nazareth e i farisei all'interno dei Vangeli ufficiali rappresentano le direttive che viene date dal punto di vista ideologico alla Chiesa Cattolica per come comportarsi, come costruire se stessa e il suo potere nei confronti degli esseri umani. Naturalmente quando sono stati scritti questi Vangeli, questi evangelisti non avevano tutto questo potere. Lo hanno acquisito, la Chiesa Cattolica lo ha acquisito dopo. Ha acquisito il potere, ha preso questi insegnamenti e ha applicato questi insegnamenti nella storia. Per cui per ogni insegnamento noi abbiamo avvicinato un comportamento, un fatto, un fare della Chiesa Cattolica che ci rende comprensibile l'insegnamento. Cioè la direttiva data dai Vangeli ufficiali nella gestione della Chiesa Cattolica come comando sociale viene data dal Gesù di Nazareth e i farisei. La relazione fra Gesù di Nazareth e i farisei determina i comportamenti della Chiesa Cattolica, determina l'autentica interpretazione del Vangelo. Tutte le altre interpretazioni sono oggettivamente false in quanto non incorrono nella pratica, non incorrono in insegnamenti pratici. Naturalmente noi leggiamo le cose dal punto di vista pagano, dal punto di vista della stregoneria, dal punto di vista del paganesimo antico. Noi diciamo che le azioni determinano l'interpretazione. L'interpretazione autentica è determinata dall'azione del più forte sul più debole, mentre invece l'interpretazione falsa e menzognera è quella che si dà da bere al più debole affinché non chieda giustizia. Oggi parleremo di una relazione fra Gesù e i farisei tratta da Giovanni. E da Giovanni tratteremo la missione di Gesù. Dopo il commento della missione di Gesù, lo avvicineremo alla bolla pontificia Suma Desiderantes Effettibus, promulgata dal Papa Innocenzo VIII il 5 dicembre 1484. Perché noi come pagani a prendersi stregoni andiamo a leggere il Gesù di Nazareth o anche la Bibbia in questi termini? Perché anticamente non esisteva nel paganesimo il concetto di male. O meglio, ogni volta che nel paganesimo succedeva delle contraddizioni, succedeva delle cose malvagie, erano sempre o assorbite dal paganesimo oppure erano esterne, cioè erano effettivamente azioni di individui che tentavano di conquistare altri individui, ma non erano delle azioni determinate dalla religione nel suo insieme. E la religione non aveva nemmeno un nome, cioè non si chiamava nessun nome, cioè il termine pagano è un termine dispregiativo usato dai cristiani nei confronti di altri. Addirittura non esiste neanche il termine religione, il termine religione è un termine latino e non ha corrispondenti negli altri paganesimi. Cioè sentire religioso la relazione fra l'essere umano e il mondo che lo circonda non veniva definita, è una cosa normale, apparteneva alla vita, solo con l'avvento del cristianesimo è necessario definire questo, è necessario definire il sentire degli esseri umani e proprio per la distruttività apportata dal cristianesimo e dalle religioni rivelate è necessario individuare il male affinché il male non si riproduca. Per questo motivo noi leggiamo la Bibbia e i Vangeli in questo modo per costruire questa struttura di pensiero. Non appartiene questo al paganesimo antico, appartiene invece al paganesimo moderno è una parte centrale della costruzione del paganesimo moderno. Vediamo dunque la missione di Gesù da Giovanni. Naturalmente io uso un Vangelo, gli altri Vangeli che qualcuno può avere possono essere tradotti in modo leggermente diverso però sostanzialmente l'insegnamento è uguale. Io uso un'edizione delle Paoline per cui penso che sia sufficiente. Dunque la missione di Gesù. Di nuovo Gesù parla loro dicendo Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Gli dissero i farisei Tu rendi testimonianza a te stesso, la tua testimonianza non vale. Gesù replicò loro Sebbene io renda testimonianza a me stesso, vale sempre la mia testimonianza perché so d'onde sono venuto e dove vado mentre voi non sapete dove io venga né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Ma se giudico io, il mio giudizio vale perché non sono solo ma ho come il Padre che mi ha inviato. E proprio nella vostra legge è scritto che è valida la testimonianza di due persone. Io rendo testimonianza a me stesso e mi rende testimonianza a colui che mi ha mandato, il Padre. Gli domandarono Dov'è tuo Padre? Gesù rispose Non conoscete né me né mio Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù disse queste cose nel gazofilaccio insegnandone al Tempio e nessuno lo prese perché non era venuta la sua ora. Questo è di Giovanni. Giovanni mette, commento naturalmente, Giovanni mette delle affermazioni nella bocca di Gesù. Affermazioni vuote, rubate la filosofia agnostica, che Giovanni si ripropone di distruggere. Giovanni è mille miglia lontano dalla sapienza agnostica. Egli brucia di rabbia davanti ad un sapere che il mettersi in ginocchio davanti al macillare di Sodome e Gomorra gli ha negato. Egli ha perso la via verso l'infinito dei mutamenti per diventare eterno. Ha perso per sempre la speranza nel divenire e non gli resta che seminare morte e terrore affinché soddisfare la propria ragione dicendo Ecco, vedi, la sapienza non esiste. Io ho ridotto ogni essere umano al mio livello, pronto per la distruzione. Gesù dice, io sono Dio. E la gente gli risponde che la sua testimonianza non ha valore. Avrebbe avuto valore qualora diceva se quel dire fosse stato in sintonia col bisogno di essere, col bisogno di libertà degli esseri umani. Invece egli predica assoggettamento. E allora gli esseri umani gli chiedono Perché dobbiamo assoggettarci? Perché io sono il figlio di Dio. La testimonianza di te stessa non vale. Ed ecco Gesù dedicarsi a uno sproloquio inconcludente. Il serpente si morde la coda. Le affermazioni sono affermazioni in se stesse. Senza nessun valore, se non quello di fornire un sofisma attraverso il quale costruire inganno. Gesù imbroglie in quanto un testimone che non può essere udito nella sua testimonianza non è un testimone che abbia valore. E nessuno sente Dio dire che quanto Gesù afferma sia vero. La bolla pontificia Summis desiderantes effectibus promulgata dal Papa Innocenza VIII il 5 dicembre 1484. Desiderando con tutto il cuore come chiede la cura del nostro dovere pastorale che la fede cattolica cresca e si diffonda ovunque e che ogni corruzione reticale sia allontanata dalla cristianità noi volentieri enunciamo nuovamente disposizioni e ordini affinché il nostro pio desiderio risulti efficace e una volta estirpati tutti gli errori grazie all'azione del nostro ministero come il sacchiello usato con prudenza lo zelo della fede e la sua servanza vengano più fortemente impressi nell'animo dei fedeli. Abbiamo ultimamente saputo con afflizione che in molte regioni della Germania settentrionale parecchie persone, uomini e donne incuranti della propria salvezza e sviati dalla vera fede si danno ai diavoli incubi e succubi mediante incantesimi trentesimi, formule scongiuri e ogni altro abominevole sortilegio criminale operano affinché le donne abortiscano e siano esteriliti, soppressi e distrutti i feti degli animali i prodotti della terra l'uva delle viti i frutti degli alberi gli uomini e le donne gli animali domestici e quelli da somma le pecore e ogni sorta di bestiame e fin anche le vigne i frutteti, i prati, i pascoli, i cereali, il frumento e ogni altra specie di verdura se questa non è superstizione ditemi voi che cos'è cercano di impedire gli uomini di generare alle donne di concepire e di rendere impossibile ai coniugi di compiere il loro dovere responsale non temano di rinnegare con bocca sacrilega la fede ricevuta col santo battesimo né di compiere e perpetrare un gran numero di altre nefandezze e delitti istigati dal nemico del genere umano mettendo così in pericolo le loro anime offrendo la divina offendendo la divina maestà e divenendo esempio scellerato e scandalo per molti e ciò nonostante i nostri diletti figli Enrico Insistoris e Giacomo Sprenger quelli che scriveranno il martello delle streghe e macelleranno migliaia e milioni di donne domenicani entrambi i domenicani è sinonimo di orrore, morte e tortura e professori di teologia professori di teologia è sempre sinonimo di orrore, morte e tortura siano stati nominati inquisitori della corruzione reticale con lettere apostoliche ancora del tutto valide e ciò nonostante alcuni chierici e laici di quelle parti presumendo di saperne di più di quanto non occorra per il fatto che nelle lettere di Normina non sono espressamente e individualmente indicate province, città, diocesi, terre e luoghi unitamente alle persone e ai loro delitti non si vergognano di sostenere che la validità di tali lettere non si estende se non in minima parte alle regioni indicate e che pertanto i sopraindicati inquisitori non sono investiti di autorità sufficiente per procedere alla punizione, alla carcerazione e alla correzione degli accessi e dei crimini commessi dagli individui prima descritti la conseguenza di questo stato di cose è che in tutte queste terre tali accessi e tali crimini restano impuniti con danno evidente delle anime e a discapito della salvezza eterna pertanto, in virtù della nostra dignità apostolica noi desideriamo venga rimosso ogni ostacolo che possa intralciare l'attività dei suddetti inquisitori affinché non si diffonda ulteriormente il morbo della corruzione ereticale e gli altri delitti di simile natura e non si arrecchi danno agli innocenti sospinti a questo dalla cura della fede stabiliamo pertanto con la presente che tutte le terre predette sia consentito ai succitati inquisitori di svolgere il loro ufficio e procedere secondo il loro pieno arbitrio alla punizione, alla carcerazione e alla correzione di quelle persone per gli eccessi e i crimini prima indicati come se nelle lettere sopracitate fossero state espressamente e individualmente indicate province, città, diocesi, terre e luoghi unitamente alle persone e ai loro delitti la bolla pontificia rinnova con le formule di rito piena autorità ai insitor e spranger concedendo loro il diritto di avalersi di altri collaboratori e in particolare di Giovanni Granper chierico della diocesi di Costanza per incarcerare, punire e multare quanti verranno ritenuti colpevoli del reato di stregoneria conferiamo inoltre agli inquisitori la facoltà di esporre e commentare quante volte vogliano in ciascuna chiesa parrocchiale la parola di Dio di chiarire ai fedeli l'utilità di seguire liberamente con la tortura e secondo rettitudine tutto quanto è stato citato nelle premesse e di operare ogni altra cosa tal fine necessaria e opportuna la bolla pontificia ordina il vescovo di Strasburgo Alberto di Baviera di proteggere gli inquisitori e sostenere la loro azione operando in modo da reprimere chiunque si permetta di molestarli impedirne le iniziative contraddire loro e ribellarsi qualunque sia la sua autorità stato, grado, prestigio, nobiltà, supremazia e condizioni avvalendosi a tal fine di sentenze censura, scomunica, sospensione, interdizione e anche altre pene più gravi qualora siano ritenute opportune senza diritto di appello riservando alla propria competenza i legittimi processi contro costoro e procurando forte dell'autorità da noi conferita ogni qualvolta si è ritenuto necessario di aggravare e inasprire le sentenze chiedendo se occorre il sostegno del braccio secolare questa è la bolla del Papa con cui il Papa Innocenzo VII il 5 dicembre 1484 incita alla tortura incita all'uccisione incita alla persecuzione di chiunque ha in bocca un minimo di respiro di libertà e ricordo il reato di partecipazione morale che noi abbiamo nel codice penale e che dice questo ogni volta che una persona aderisce a una filosofia o a un pensiero e quel pensiero sia origine di morti e di stragi quella persona è responsabile di tutte quelle morti e di tutte quelle stragi ora qualunque cristiano è responsabile di ogni tortura di ogni atto inquisitorio di ogni rogo alzato cioè la responsabilità è una responsabilità morale e assoluta chiaramente a me non mi interessa il lato giuridico mi interessa il lato filosofico cioè fin tanto che la chiesa cattolica non condannerà tutti quei preti tutti quei papi tutti gli inquisitori tutti i vescovi cacciandoli dalla chiesa con ignominia per quanto hanno fatto e cacerà dalla chiesa cattolica quel dio che ha ordinato di fare questo la chiesa cattolica e ogni cristiano è responsabile di delitti contro l'umanità sempre solo per il fatto di essere cristiano solo per il fatto di credere in quel dio ricordatevi questo la partecipazione morale è considerata nel codice penale perché ha degli effetti di gravità però in filosofia questo è importantissimo ogni cristiano non è innocente perché lui in fondo non ha fatto niente aderendo a quella religione aderendo a quel sistema di pensiero si fa responsabile morale di quanto è avvenuto questo deve essere chiaro come dice il presidente della repubblica un assassino è un assassino anche dopo 200 anni dopo 300 anni questo ha dichiarato il presidente della repubblica con il discorso all'inizio dell'anno ed è un discorso giuridico che però è anche un discorso filosofico cioè la sua origine è nella filosofia però poi viene tradotto giuridicamente in maniera diversa però qui non si tratta di processare delle persone si tratta di dare a ognuno il suo bene questa bolla di innocenza ottavo la mettiamo insieme al trattato sulla tolleranza di Voltaire citiamo il trattato sulla tolleranza tra gli antichi romani da Romolo fino ai tempi in cui i cristiani si scontrarono con i sacerdoti dell'impero non trovate alcun uomo perseguitato per le sue convinzioni salvo la repressione dei baccanali Cicerone dubitò di tutto Lucrezio negò tutto eppure non venne fatto loro il minimo rimprovero la licenza arrivò al punto tale che Plinio il naturalista inizia il suo libro negando Dio e affermando che se ce n'è uno questo è il sole Cicerone dice parlando dell'inferno infatti l'inferno non è un'invenzione cristiana non c'è vecchia tanto imbecille da crederci Giovenale afferma nemmeno i bambini ci credono a Roma si canta in teatro dopo la morte non c'è nulla e la morte stessa è nulla Seneca Troade colo finale secondo atto detestiamo pure tali affermazioni o tutta il più perdoniamo ad un popolo non illuminato dei Vangeli esse sono false sono empie concludiamo però che i romani erano molto tolleranti perché tali massime non suscitarono mai la minima protesta il grande principio del senato del popolo romano era le offese fatte agli dei sono un problema degli dei bene voglio citarvi questo anche se non sono d'accordo con Voltaire perché le cose vanno precisate ancora meglio per dire che a Roma qualsiasi religione era ammessa purché non alterasse quelle che erano la dignità romana cioè il prestigio della città non venisse messa in discussione la prima religione che è arrivata a Roma a mettere in discussione il prestigio di Roma è proprio il cristianesimo i bacanali hanno un altro discorso però il cristianesimo mette proprio in discussione la dignità romana e in particolar modo dopo il 70 dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme gli ebrei che a Roma avevano diritto di cittadinanza nel senso che gli ebrei il loro culto era ammesso era un culto ufficiale dopo la distruzione del tempio gli ebrei si chiudono e è in quel momento che i romani scoprono la differenza che c'è fra gli ebrei e i cristiani prima i cristiani non vengono perseguitati parte discorsi di Nerone però è tutto da vedere perché i martiri sono quasi tutti mitrianici non vengono perseguitati perché vengono considerati ebrei e come ebrei il loro culto era ammesso mentre invece dopo il 70 gli ebrei chiudono elaborano il Talmud elaborano altri libri che diventano per loro libri importanti libri sacri e prendono le distanze dai cristiani in quel momento Roma scopre che i cristiani sono diversi e scopre la diversità della religione romana commento la missione di Gesù in Giovanni e la bolla pontificia summis desiderantes effettibus di Innocenzo VIII integrato con un passo del trattato sulla tolleranza di Voltaire è il rappresentante del dio cristiano cattolico in terra ciò che gli fa è ciò che avrebbe fatto il dio dei cristiani ciò che gli fa lo fa per mandato di Gesù era un individuo che garantiva i banchieri Innocenzo VIII era un individuo che garantiva i banchieri dando in garanzia la mitra e la tiara tanto disprezzava i simboli del proprio potere egli sapeva perfettamente che il proprio potere era solo gestione di schiavi che i cattolici chiamano fedeli vendeva le cariche ecclesiastiche al miglior offerente tanto che il Vaticano era diventato un'officina di falsari e di commercianti di bolle vaticane più o meno false in cambio di denaro sotto forma di rendita annua tenne in galera il fratello del sultano Bayazid secondo reo di essersi interessato delle moglie del sultano stesso questo dopo aver rinunciato ad una crociata contro i turchi egli si comportava egli si comportava come dio omaggiando chi gli portava denaro e disprezzando le ossa di chi era troppo povero per difendersi quest'individuo fu l'autore della bolla summis desiderantes effettibus il cui scopo era quello di istituzionalizzare la tortura nei confronti di ogni essere umano che poteva aspirare alla libertà mentre il paganesimo romano con liber libera cerere annullava il valore giuridico come prova di confessioni ottenuta sotto tortura e gli effetti delle dodici tavole a Roma in effetti le persone non venivano torturate per avere la confessione perché nelle leggi delle dodici tavole che sono fra le leggi più antiche che sono andate perdute però è rimasta traccia nei tribunali non veniva accettata la testimonianza ottenuta sotto tortura per cui a Roma voi non troverete mai la tortura per estorcere la testimonianza o la colpevolezza o l'innocenza mentre invece la troverete nel cristianesimo proprio come indicazione del Gesù di Nazareth il senso sia che l'individuo fosse o non fosse colpevole sia che confessasse che non confessasse la tortura doveva comunque concludersi con la morte e con l'esecuzione dell'individuo che in quanto accusato era comunque colpevole questo fa parte del sistema introdotto da Sant'Ignazio di Loyola comunque un individuo accusato doveva essere necessariamente colpevole pertanto veniva torturato per provare che l'accusa che lì si muoveva era giusta infatti non doveva dichiararsi colpevole di reato ma doveva confermare quanto il torturatore gli diceva di confermare da notare la delicatezza del rappresentante del macellaio Sodoma e Gomorra colui che fa il cardinale colui che fa il cardinale un bambino di 13 anni diventerà poi papa tanto bene lo hanno addestrato figlio di Lorenzo il magnifico come segno di gratitudine perché sua figlia ha sposato suo figlio naturale è afflitto perché nella Germania settentrionale parecchie persone uomini e donne incuranti della propria salvezza si danno ai diavoli incubi e succubi costoro farebbero scongiuri affinché le donne abortiscano a paura di non avere un numero sufficiente di schiavi sia distrutti i feti degli animali e distrutti i prodotti della terra da dove gli deriva questa certezza? dalla sua immensa superstizione o dalla coscienza che il suo dio di cui egli è rappresentante è solo miserabile probabilmente gli deriva soltanto dal suo grande desiderio di vedere le persone più deboli umiliarsi davanti ai suoi piedi probabilmente desidera sentire le osse che si spezzano sotto la tortura dei suoi inquisitori oppure come ogni papa vuole compiacersi delle carni bruciate di chi non si può difendere probabilmente vuole compiacersi del suo potere per mettere in ginocchio e terrorizzare il mondo questo consente un'apparenza di vita a chi è morto ma non si vuole decidere a cadere le premesse della sua bolla sono false come è falso il suo dio l'unica cosa vera è il desiderio dei papi di distruggere il divenire del genere umano appare evidente come spesso l'autorità conferita agli inquisitori sia stata respinta per la falsità delle premesse da molti vescovi e da molti titolari di diocesi adducendo i più vari motivi innocenzo ottavo ribadisce la validità delle lettere ma non la validità dei motivi per i quali quelle lettere sono state date la sua ferocia è tale da giustificare ogni atto da giustificare ogni premessa non si chiede perché l'autorità dei suoi inviati è stata messa in discussione si ferma alle motivazioni formali in quanto il suo volere è la mattanza degli esseri umani deboli le sue motivazioni sono la soddisfazione della sua ferocia e della sua smisurata sete di dominio nulla deve ostacolare il suo desiderio di distruzione e gli ordina la rimozione di ogni ostacolo per poter torturare la povera gente davanti al desiderio di morte propagato dalla chiesa cristiano cattolica a cosa serve la ragione con l'edito di tolleranza nei confronti dei cristiani Costantino dette il via a oltre 1600 anni di terrore in tutta la superficie della terra eppure nonostante ciò Voltaire può scrivere verso la fine del XVIII secolo ricordando come durante l'impero romano non ci furono persecuzioni per le proprie idee e per le proprie convinzioni ma loro erano pagani e anche quando il paganesimo divenne sempre più controllato dall'imperatore la libertà di percepire il circostante non fu mai ostacolata solo il paganesimo può consentire la libertà religiosa intesa come garanzia di seguire le proprie convinzioni impedendo che tali convinzioni vengano imposte all'interno del corpo sociale solo la percezione del circostante garantisce l'elaborazione soggettiva del percepito e il cammino soggettivo verso lo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza chi adora un padrone vuole piegare l'intero corpo sociale e quel padrone perché soltanto in quel momento si sente rassicurato dalla vigliaccheria chi adora un padrone vuole piegare l'intero corpo sociale a quel padrone perché soltanto in quel modo si sente rassicurato nella vigliaccheria della sua scelta Voltaire presenta la tolleranza come l'ultima spiaggia al cristianesimo l'ultima spiaggia perché subito dopo la morte di Voltaire scopierà la rivoluzione francese al moto di libertà uguaglianza e fraternità esattamente il contrario di quanto il cristianesimo ha sempre predicato e praticato il disprezzo del dio dei cristiani per il genere umano il suo tentativo di ridurlo in bestiame di allevamento per soddisfare il proprio bisogno di pulsione di morte a fatto del disprezzo per le diversità uno degli elementi fondamentali della propaganda cristiana e i cristiani hanno propagato il razzismo come elemento del loro fare hanno propagato la sottomissione come elemento fondamentale del loro fare quanta diversità quel paganesimo Plinio può negare Dio quando lo fa il Vanini gli si taglia la lingua quale grandezza dottrinale ha un pagano qualunque pagano non si tratta di tolleranza si tratta di considerare che ogni essere umano ha una propria via per lo sviluppo della propria coscienza e della propria consapevolezza ogni via ha scudi ed elementi diversi attraverso i quali esprimersi pertanto la diversità è parte integrante del divenire pagano mentre per i cristiani è necessario appiattire l'esistente sul suo dio assassino il pagano può determinare cosa socialmente condivide o cosa socialmente non condivide ma non può imporre il proprio cammino egli cammina con altri ma il percorso è solo suo ha le sue personali caratteristiche rappresenta il suo personale divenire mentre spezzava le osse a persone indifese Gesù recitava io sono la luce del mondo chi segue me non camminerà nelle tenebre è vero il loro cammino era illuminato dai fuochi con i quali i torturatori dell'inquisizione arruventavano i ferri per la tortura non erano i fuochi di vesto o di vulcano ma producevano le urla che solo vuol turno produce quando invaso da furia si getta dalle montagne al mare chi ci assicura che tu sei quanto dici chiedono a Gesù io replica Gesù io perché io so e voi non sapete nulla continua Gesù mentre distribuisce il terrore nei tribunali dell'inquisizione o mentre al contrario distribuisce privilegi attraverso il togliere il pane a chi non si può difendere vuole stupire il Gesù di Nazare si sente furbo perché il macellare Sodome e Gomorra ha tolto agli ebrei la capacità di guardare il tempo mentre viene il loro incontro si sente abile quando aggira la possibilità di dimostrare che quanto dice sia vero egli non vuole dimostrare egli afferma io non giudico nessuno afferma Gesù e intanto uccide chi non si può difendere intanto distrugge ogni relazione fra gli esseri umani e il circostante quale orrore ha prodotto il cristianesimo se allora quando Gesù faceva questa affermazione fosse stato ricoverato come un pazzo qual era quale tormento sarebbe stato risparmiato all'umanità nell'episodio Giovanni dice ai cristiani ecco dovete costringere chi vi attacca a dimostrare quanto dice deve portare testimoni quando li ha portati uccidete lui e i testimoni così agivano i tribunali dell'inquisizione quale differenza fra il paganesimo e il cristianesimo uno porta al divenire eterno l'altro porta direttamente al nulla attraverso l'imposizione all'assoggettamento al macellaio di Sodoma e Gomorra il macellaio di Sodoma e Gomorra ha paura del paganesimo perché solo il paganesimo attraverso la relazione fra soggetto e circostante può portare l'essere umano a cogliere dall'albero della vita eterna quell'albero è nascosto dal terrore delle religioni rivelate da ogni sentiero che implica soggettamento il macellaio di Sodoma e Gomorra ha molta paura di libertà perché libertà è rimasta per aiutare l'essere umano attraverso la stimolazione nella ricerca per soddisfare i propri bisogni per percorrere un sentiero virtuoso e diventare eterno qualcuno potrebbe dire ma una volta succedeva questo non adesso il problema non è che succedesse una volta adesso non succede adesso succede esattamente come una volta oggi è più mascherato perché dal 1789 dalla rivoluzione francese ad oggi la chiesa cattolica è stata messa ripetutamente e sistematicamente con le spalle al muro solo per questo motivo oggi non c'è più la stessa cosa se i radioascoltatori ricordano la trasmissione precedente la trasmissione precedente ha telefonato un signore il quale non solo ha detto tante cazzate ma fra le altre cose ha detto ma chi sei tu per dire questo ora la frase sembra apparentemente banale però è un classico dell'inquisizione cioè praticamente cosa dice l'inquisitore a Galileo chi sei tu per dire che la terra gira attorno al sole qui guarda qua c'è la Bibbia la parola di Dio la parola Dio dice che il sole gira attorno alla terra dunque chi sei tu per mettere in discussione la parola di Dio e Galileo non fu condannato a rogo perché poveretto si è sottomesso fu condannato al carcere a vita ora quella frase detta in quel modo è di una porcheria enorme è di uno squallore di una vigliaccheria che non ha precedenti nella storia perché quella frase in sé può essere accompagnata da qualsiasi atto di terrore cioè quella frase buttata là che sembra una battuta è in realtà la frase chiave per distruggere ogni cammino delle persone la persona che cerca di costruire il futuro può essere scema arrogante stupida idiota tutto quello che volete però sta tentando di costruire il futuro nel tentativo di costruire il futuro non farà un errore ma farà una sequenza infinita di errori comunque quella persona tenterà sempre di costruire il futuro cioè quella persona sarà sempre preziosa per il sistema sociale in cui vive perché in quel sistema sociale mette le sue determinazioni sbaglia sicuramente sbaglia però mette se stessa al contrario chi mette il sistema sociale in ginocchio non mette le proprie determinazioni ma sarà sempre concentrato per strappare le determinazioni agli altri cioè ma tu chi sei ma tu cosa vuoi ma statene calmo statene tranquillo vedi di farti i fatti tuoi ecc cioè si tenterà sempre di distruggere qualsiasi determinazione il sistema sociale presenta e di questi tipi di guardiani che non c'è differenza fra chi fa queste affermazioni e chi usava i feri roventi dal punto di vista filosofico dal punto di vista di rapportarsi col mondo non esiste nessuna differenza esiste una differenza giuridica chiaramente quello che ti infila i feri roventi ha un potere ben diverso alle spalle però dal punto di vista del del significato filosofico del significato emozionale del significato psicologico non esiste nessunissima differenza chi fa un certo tipo di affermazioni è uno che si pone in un certo modo col mondo chi ha necessità di distruggere il mondo deve per forza impedire ai costruttori di mettere i mattoni nella storia della distruzione della torre di Babele questo è il vero significato dell'insegnamento voi dice Dio dovete distruggere chiunque tenta di costruire qualcosa chiunque tenta di costruire il futuro chiunque ha un intento gli esseri umani che hanno un intento di dare l'assalto al cielo di dare l'assalto al cielo della conoscenza devono essere distrutti devono essere impediti a fare questo perché se fanno questo sono uguali a Dio cioè diventano dei diventano eterni e Dio deve necessariamente impedire questo e allora voi troverete anche nel sistema sociale anche nella società di oggi persone che ti dicono ma che cazzo vuoi tu ma cosa vuoi tu cosa ti scagna a fare ma chi te lo fa fare capisci oppure quando tenti di costruire un sistema filosofico un sistema per rapportarti col mondo ti dicono immediatamente ma chi sei tu per dirlo eh ma sai tu non hai la testimonianza di te stesso la testimonianza del padre la testimonianza del padre no devi distruggere questo per cui queste persone hanno la necessità di distruggere e che usino i ferri roventi che usano soltanto la battuta che usano non è importante il modo di rapportarsi è uguale i mezzi dipende dalle possibilità di comando sociale di potere cioè che dispongono in quel momento per cui la chiesa cattolica sta sempre torturando il suo obiettivo è quello di torturare tortura sempre tutti i giorni persone che non si possono difendere le torture negli ospizi le torture negli orfanotrofi le torture tortura negli ospedali la tortura non è necessariamente il ferro rovente ma è la molestie è la presenza è il distruggere la persona che tenta di costruire se stessa è il suo invito a pregare è il suo invito a pentirsi dei peccati cioè tutte queste molestie sono pesantissime e fanno parte della tortura cioè sono tortura vera e propria perché impediscono alla persona di costruire se stessa per cui l'innocenza ottavo esiste ancora è pesante e lavora tutti i giorni il bambino che viene messo che viene battezzato è un atto di tortura è un atto di violenza che si fa il bambino perché qual è la religione del bambino? il bambino deve essere addestrato a credere e a lasciarci la vita per pensare nell'esistenza di un dio questo è il problema non viene rispettato quello che è il bambino ma il bambino deve essere addestrato ed è l'esposizione del crogiore del male di cui stiamo parlando per cui l'attività dell'innocenza ottavo l'attività del pazzo di Nazareth è un'attività sempre e comunque in corso è un'attività sempre e comunque distruttiva nei confronti degli esseri umani bene oggi ho finito il Gesù di Nazareth l'infamia umana la quarta parte e invece tanto per rilassarvi un pochino dal mio amico il poeta lucente dal mio amico il poeta lucente vi leggerò un soletto vediamo un attimino cosa cosa ci ha mandato il poeta lucente da leggere allora lui ha una notizia giornalistica che dice muore prete colpito da Ictus sulla strada di Lourdes non so quando comunque c'era fotocopia del giornale il prete era stato colpito da Ictus lo scorso 18 maggio in Francia nel corso di un viaggio che dopo aver fatto tappa a Tours per le celebrazioni del centenario della nascita di Don Martino vescovo della città francese avrebbe dovuto approdare a Lourdes Don Giocondo però a Lourdes non è mai arrivato durante la guerra il parroco si era offerto come prigioniero ai tedeschi eccetera era stato al posto di un padre di famiglia era stato poi graziato eccetera su queste notizie naturalmente il poeta lucente ha scritto vorrei sapere che te l'ha fatto fare chi mai ti consigliò di far quel viaggio credevi di riceverne un vantaggio invece lì finì per crepare me dopo però aggiungere una chiosa quel prete del tedeschio prigioniero ebbe salva la vita e se ciò è vero più dei nazisti è Lourdes pericolosa questi sono i commenti del nostro amico il poeta lucente il poeta lucente ha mandato parecchie parecchie poesie molto divertenti più che poesie sono sonetti o versetti riferiti sempre a fatti di cronaca vediamo un attimino dunque il 5 novembre del 97 profanazione profanazione scoperta da alcuni turisti amplesso dietro l'altare di San Paolo a Londra bene praticamente alcuni turisti hanno scoperto è stata una giovane coppia è stata soppreva mentre faceva l'amore dietro l'altare la sacrile legale vicenda divulgata ieri da stampa londinese ha suscitato una comprensibile indignazione nei circoli ecclesiastici e tra i fedeli della chiesa anglicana dice il nostro poeta lucente quando travolto sei dal desiderio puoi fare sesso pur nel presbiterio e due sorpresi sono stati a chiavare in una cattedrale dietro l'altare ma in cattedrale il gesto libertino compiuto fu oppure in un chiesino e questa è la domanda che si fa il nostro amico il poeta lucente vediamo un altro un'altra notizia che veniva da Latina ed era la banda dei teenagers specializzate in furti chierichetto e ladro c'è anche un chierichetto di 15 anni una banda di 6 baby ladri uno solo e un maggiorenne scoperta dai carabinieri eccetera allora questa notizia il poeta lucente la commette in questo modo rendiamo onore a questo chierichetto che pare proprio avere ben capito le doti e l'opera ed un prete provetto e ad imitar par si è ben riuscito per diventare un degno sacerdote e sembra proprio sulla via giusta già è al pari di un famelico coyote diman sarà vampiro in sacrestia bene vi ho letto alcuni sonetti del poeta lucente e mentre vi ho letto alcuni sonetti del poeta lucente vi do un piccolissimo commentario da i fenomeni di premorte interpretati da stragoneria del paganesimo politeista vi ricordo che nel maggio dello scorso anno fu tenuto a San Marino un convegno sugli effetti NDE cosa sono gli effetti NDE sono quelle sensazioni che in caso di incidente a una persona che è in grave crisi che è in coma e allora ha visioni ha visioni ha sensazioni ha sdoppiamenti alcune sensazioni quelle e di queste di questo su questo tema si è svolto un congresso a San Marino e ce n'è stato l'anno scorso sull'intero fenomeno in generale mentre quest'anno se ne è svolto un altro a marzo dove non ho potuto partecipare soltanto sulle visioni soltanto sul modo di vedere le cose bene dal naturalmente ho analizzato l'intero 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 congresso ho fatto un libro proprio di analisi del congresso di quanto la scienza ha provato e ha verificato vi ricordo che la scienza la scienza c'è una cattedra di parapsicologia all'università di edimburgo che è l'unica cattedra in europa è il titolare il dottor morris la quale sta studiando tutti i fenomeni psi tutti i fenomeni di energia di energia di parapsicologia eccetera e praticamente ha stabilito per quanto gli è riuscito che esistono tre cose importanti che vale la pena di studiare tutte le altre sono quasi tutti i trucchi alcuni magari ti lascia un po' perplesso ma quasi tutti i fenomeni sono dei trucchi meno che tre cose ed è i fenomeni N10 cioè i fenomeni di premorte cioè quando una persona è in crisi e ha delle sensazioni di sdoppiamenti che è stato dimostrato dall'incrocio delle testimonianze spesso dei medici le sensazioni che la persona che ha vissuto lo stato di premorte ha subito poi ci sono gli effetti OBE cioè gli effetti del corpo luminoso cioè spostamenti della persona cosiddetti viaggiastrali che poi sono cose diverse e anche qua il quadro testimoniale il quadro di testimonianze stanno a dimostrare la realtà dei fenomeni cioè il fenomeno come reale e la terza cosa è quello che l'università chiama il déjà vu in pratica sono quell'insieme di sensazioni di cosa già vissuta o di cosa percepita di cosa sognata di cosa già vista che hanno le persone di sensazioni premonitrici che hanno le persone ecco anche questo si è dimostrato da parecchie testimonianze cioè da parecchie testimonianze anche incrociate che ha dei fondamenti reali praticamente tre cose hanno dei fondamenti reali però sono tre cose assolutamente soggettive cioè sono sensazioni soggettive che hanno le persone e il modo che hanno le persone di rapportarsi col mondo per cui non esiste almeno da quello che stanno i studi scientifici non esiste un comportamento oggettivo un dato oggettivo che appartiene a tutte le persone e questo conferma un po' la visione della stregoneria che praticamente dice che le persone devono costruirsi cioè la vita è un atto di costruzione delle persone per cui quelle persone che hanno effetti NDE in caso di crisi oppure quelle persone che hanno effetti OBE oppure che ecco sempre viaggi astrali quelle persone che hanno effetti di déjà vu di premonizione di visioni del futuro o anche di cose che gli stanno attorno sensazioni eccetera sono in effetti persone che per un qualche motivo si sono costruite sembra che esista anche una sensibilità di fondo ma questo non vorrei parlarne perché andiamo su un altro campo bene da questo eventualmente adesso c'è una telefonata eventualmente vi leggerò la struttura del corpo fisico pronto? Ciao prego sentire un par de volte qua ultimamente e mi ricollego un po' il discorso che stai facendo adesso che sono da trovare il giro giusto con il telefono grazie niente quello che ti fai dicendo adesso di queste modi di percepire le realtà riconosciute più o meno ufficialmente diciamo no? te parlavi del suo congresso adesso si 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 e qui ti dicevi dove fare la prima parte della tua trasmission non te lo seguo per cui faccio fatica un attimo entrare in un linguaggio che si è composto in voi non è importanza non è importanza usa quello che vuoi che ti dicevi che ti scrivi sta roba in uno stato di alterazione della percezione giusto? ecco secondo me se sbagliare usare il termine alterazione della percezione infatti era sbagliato nel senso che in sé è qualcosa di negativo voglio dire come che vi è inteso normalmente infatti era eccessivo il termine ecco no perché per me Marco gli era importante capire anche a ti se a quel punto ti consigli di alterare oppure voglio dire al limite se è contrario gli alterati che non riesce a slargare un attimo di più le possibilità reali della propria percezione non avevo pensato a questo aspetto ecco no niente volevo capire un attimo sì chiarire questo termine che mi metteva un po' dei dubbi su quanto si stava dicendo non capivo bene la chiave della lettura diciamo comunque secondo me lo vedo più appunto come uno stato allargato di percezione cioè vuol dire tutto il discorso che ti affede la religione che è rivelata diciamo è una costruzione del tuo percepire esatto ok quindi qualsiasi stato diverso che esce da questa costruzione viene definito alterato certo ecco mi diria che non è mia così insomma tutto qua cioè questo alterato che mi disturbava ok ti seguo con interesse ciao in effetti hai ragione si può interpretare anche dal fatto di alterato come matto è vero questo io non ci avevo pensato niente no comunque in ogni caso la religione rivelata ma anche la ragione cioè la descrizione del mondo tendono a chiudere l'individuo a chiudere il suo pensiero il suo essere in un ambito sempre più più ristretto mentre invece l'alterazione della percezione porta a uscire da quell'ambito e ad allargarlo però non avevo pensato in effetti che uno può anche dire vabbè alterazione della percezione questo è matto è vero non avevo pensato a sto modo di vedere le cose in ogni caso non è una vera e propria alterazione della percezione è uno stato di trance estremamente leggero cioè in pratica quando scrivo divento l'oggetto che scrivo però non è l'alterazione della percezione di quello che si è fuori non è il sognare o lo sdoppiamento è uno stato di leggerissima trance tutto lì dopodiché devo andare a studiarmi quello che ho scritto non è il fatto comunque non avevo pensato a questo aspetto chiedo un po' scusa ai radioascoltatori penso comunque che dopo 70 e rotte trasmissioni ormai si sia capito dove è la struttura come l'amica Giovanna che diceva oggi il crogiolo viene letto in un modo diverso oppure Michelangelo può essere letto in un modo diverso è vero questo solo che a volte lo usi in modo talmente immediato partendo da quello che tu hai visto quello che tu hai colpito che ti ha colpito che non pensi che esistano altre forme di interpretazione altre forme di lettura degli oggetti comunque grazie Franco sono perfettamente d'accordo con te va bene allora in questi fenomeni NDE vediamo un attimo Jeff pronto? ciao Arcadio no voglio dire che di queste cose di tutte le cose che fiamo di molto positivo che l'osservazione dei nostri ascoltatori che serve veramente cose quello che dicemo e dopo anche ne corregge come mi è successo anche a me qualche volta è giusto che sia così perché vuol dire che noi avevamo degli ascoltatori molto attenti però c'è anche quello che ti bastona no? no no aspetta che si in difficoltà perché sai non ti ricordi più un nome non sei un cazzo perché non sai questo nome aspetta è pronto? dimmi no no è perché sono in zona un po' borgda niente niente va bene quello che voglio dire è più più o meno quello va bene grazie ciao 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 Arcadio ciao Arcadio cioè gli ascoltatori sono abbastanza attenti almeno alcuni di quello che diciamo in effetti e tentano di tradurlo nel loro nel loro pensiero il problema quando parliamo anche di queste cose è che purtroppo siamo costretti ad usare termini che appartengono al nostro percorso al nostro percorso per cui in un altro percorso un'altra persona del termine può voler dire anche cose diverse in effetti la precisione della lingua c'era un Berto ecco credo almeno 10-20 persone in Italia insomma c'è una padronanza forte della lingua dopodiché comunque non si riesce cioè se non si arriva a un livello di sintonia con le cose che si dicono la persona comincia ad entrare in sintonia per cui riesce a comprendere in gran parte del tuo pensiero altrimenti è possibile leggere anche alcune cose in maniera diversa ma questo penso che sia abbastanza normale tanto grazie Arcadio per la telefonata niente il problema che era venuto fuori negli effetti negli effetti NDE era questo si diceva alcuni effetti sono delle costanti esistono come delle costanti tipo le visioni tipo il tunnel tipo la luce la luce che appare anche fra quelle persone che non generano il corpo luminoso cioè che non si staccano dal corpo che non hanno la visione la visione panoramica di quello che gli sta succedendo allora ci si chiede perché esistono degli effetti costanti a tutte le persone e invece solo alcune persone si staccano dal corpo che è in crisi il corpo che ha avuto un incidente stradale alcune persone riescono a vedere anche i chirurghi che ci lavorano perché abbiamo queste due cose diverse allora nell'analisi delle esperienze NDE si manifestano delle costanti e spesso quando qualcuno ha crisi e stati comatosi vicino alla morte con l'introspezione ipnotica si leggono molti elementi propri delle NDE cioè in pratica alcuni hanno avuto incidente stradale stanno per morire e dicono io non ho visto niente allora con l'introspezione ipnotica si può invece fare un'analisi e si può portare il soggetto a riconoscere quanto lui ha visto e si è visto che tutti quelli che sono stati vicino alla morte hanno avuto degli elementi propri delle NDE dunque qualcuno potrebbe concludere che tutti abbiamo delle strutture energetiche che sopravvivono dopo la morte del corpo fisico le stesse testimonianze delle tre persone invitate al congresso di San Marino per descrivere le loro esperienze hanno raccontato dell'incontro con entità De Giorgi disse che le entità avevano commentato dicendo che era andato troppo lontano e sapeva troppo un altro il fondatore della comunità pseudo cristiana era stato eletto ad una specie di inviato del messaggero del dio creatore se l'aurea di De Giorgi era molto vasta l'aurea del fondatore della comunità pseudo cristiana credo di Pordenone o delle vicinanze aveva un'aurea blu nera e questo fa parte della mia visione del congresso cosa significa questo che mentre le visioni di De Giorgi erano supportate da una forte soggettività fra le altre cose c'era un'altra entità di energia fra De Giorgi e il primo congressista seduto vicino le visioni trascendenti nelle NDE del fondatore della comunità pseudo cristiana credo il Ten Sen Sao credo erano la sconfitta della sua vita la sua visione di Dio e del suo paradiso era la consolazione della sconfitta della sua esistenza le variabili sono il divenuto dei singoli individui mentre De Giorgi ha sviluppato comunque un suo potere di essere il fondatore della Ten Sen Sao credo si chiamasse così aspetta solo di morire avendo rinunciato a fondare il proprio divenire quello che più importa è rilevare che l'essere umano ha due gambe non potremmo mai usare le determinazioni dell'essere serpente questo vale sia nel momento della nascita che nel momento della morte del corpo fisico in ogni caso alcune delle determinazioni in comune con l'essere serpente espresso al lato della morte del corpo fisico le abbiamo perché entrambi siamo esseri della natura quando siamo sottoposti ad una crisi che ci porta vicino alla morte del corpo fisico il nostro corpo reagisce quando siamo sottoposti ad una crisi mortale o quasi cardiaca tipo il nostro corpo reagisce noi abbiamo un apparato sensorio che ci spinge a provare dolore questo apparato nel momento della morte del corpo fisico deve essere disattivato il corpo e il cervello sono bombardati da elementi chimici prodotti dal corpo la simil marihuana o la simil mescalina o altre fanno in modo che i recettori del dolore siano bloccati e il corpo sia predisposto a partorire il corpo luminoso le NDE dimostrano che era un falso allarme infatti le esperienze sono quelle vicino alla morte non sono mai esperienze dopo morte e chi le racconterebbe il corpo fisico si predispone a partorire il corpo luminoso ma il corpo luminoso è il frutto del percorso dell'esistenza dell'individuo un'esistenza fondata sulla sottomissione non produce un corpo luminoso ma distrugge la carica vitale iniziale la carica vitale che l'essere feto aveva faticosamente arricchito attraverso l'esercizio delle proprie determinazioni nella pancia di sua madre il corpo fisico si prepara dunque a partorire il corpo luminoso non si partorisce nel dolore il parto con dolore è esercizio del piacere di sottomissione dei seguaci delle religioni cristiane in realtà quando si partorisce il corpo luminoso il corpo fisico blocca i recettori del dolore attraverso un bombardamento chimico da qui il senso di pace e il senso di pace lo sentono tutti nelle NDE il senso di benessere ha due direzioni nelle quali svilupparsi da un lato il bombardamento chimico dei recettori del corpo fisico e dall'altro dal momento che la consapevolezza si trasferisce dal corpo fisico al corpo luminoso i sensori che trasportano i fenomeni del circostante alla coscienza sono sottratti al corpo fisico le sensazioni trasmesse alla coscienza dal corpo luminoso che non conosce il dolore rimane memoria del vissuto fisico in pratica quando la persona si risveglia dalle NDE non sente il dolore mentre aveva la coscienza nel corpo luminoso mentre vedeva i chirurghi che operavano sul suo corpo lei non sentiva dolore perché la sua coscienza aveva staccato i sensori dal corpo fisico e li aveva trasportati tutti nel corpo luminoso nelle NDE la sensazione di luce è un altro fenomeno che predispone il corpo fisico tutte le sinapsi tutti i centri di energia del corpo fisico trasferiscono la coscienza l'energia e la consapevolezza al corpo luminoso questo trasferimento è un'esplosione di luce l'esplosione di luce c'è indifferentemente dal fatto che si abbia il parto del corpo luminoso che l'aborto dello stesso in pratica tutto il corpo si predispone a partorire il corpo luminoso per cui tutto si accende però non è detto che il corpo luminoso venga partorito nelle NDE c'è la sensazione di tunnel anche questo è un effetto della predisposizione della coscienza ad essere trasferita sul corpo luminoso esattamente come la luce alla fine del tunnel a volte la coscienza trova un corpo luminoso su cui trasferirsi altre volte non trova nulla se non la foglia illusoria delle immagini trascendenti il condizionamento educazionale soggettivo al lato della morte del corpo fisico c'è la predisposizione dello stesso a morire quando si ritorna da quelle sensazioni fra le altre cose si riporta quanto si è percepito si tende ad ingannarsi perché nessuno all'interno del nostro sistema sociale insegna gli esseri umani ad affrontare la vita per costruire la morte del corpo fisico purtroppo gli esseri umani tendono ad ignorare come la vita altro non è che una questione di assoluta volontà la vita è l'esercizio delle proprie determinazioni soggettive ne abbiamo parlato oggi questo vale per ogni essere della natura e ogni essere della natura paga il suo tributo alla natura il tributo della riproduzione ad ogni membro per ogni specie la fisicità dell'individuo si sviluppa comunque essa è frutto della volontà dell'essere feto essa è frutto della corsa degli spermatozoi per fecondare quell'ovulo la volontà che l'individuo usa nello spazio che va dalla nascita come essere umano alla morte dell'essere fisico serve per costruire l'essere luminoso il dio che cresce dentro ogni essere della natura se non teniamo presente questo dimentichiamo non c'è maledizione più grande per chi dimentica non c'è maledizione più grande nella magia per l'essere che non determina se stesso la fisicità la costruiamo nella pancia di nostra madre ma cosa costruiamo nella vita fisica per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra solo la loro distruzione giorno dopo giorno attraverso la loro sottomissione la fisicità resta ma è solo un guscio vuoto buono soltanto per costruire il futuro degli esseri vermi in pratica cosa abbiamo negli effetti NDE negli effetti NDE noi abbiamo visioni di luce visioni di pace le visioni di un tunnel e alcuni hanno la visione di esseri che lo aspettano questi esseri possono essere la Madonna possono essere apostoli possono essere Dio possono essere Gesù sono immagini del condizionamento educazionale cosa significa questo significa che il corpo si sta predisponendo sta predisponendo se stesso per far partorire il corpo luminoso cioè per trasferire la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso cosa significa il corpo luminoso visto che alcuni me lo chiedono la coscienza non è un oggetto astratto è un oggetto materiale e come oggetto materiale ha un supporto materiale su cui innestarsi io sono coscienza io come essere fisico sono la mia coscienza la mia coscienza non esiste senza un oggetto su cui esistere l'oggetto su cui esistere dopo il corpo fisico è il corpo luminoso chiaramente non è un vero e proprio corpo è semplicemente dell'energia vitale che resta compatta e basta però il corpo fisico si appresta a questa operazione per apprestarsi a questa operazione cosa fa? blocca i ricettori del dolore accende tutte le cellule tutto il reticolato sinapsico che c'è tutto vibra tutto si mette in movimento dopodiché c'è il processo la sensazione di trasferimento e queste sono le predisposizioni che ha il corpo fisico la sensazione degli esseri che si vedono appartengono al condizionamento educazionale che si è vissuto per cui praticamente queste sensazioni le hanno tutte le persone che sono sul punto di morire o che muoiono anche dopo comunque loro non ce lo raccontano ed è possibile risalire agli effetti di queste condizioni proprio attraverso la concentrazione proprio attraverso il tentativo di partorire il proprio corpo luminoso proprio attraverso il tentativo di trovare le mani in sogno mentre facciamo queste operazioni noi abbiamo tutte le sensazioni di trasferimento abbiamo l'effetto luce in alcune situazioni abbiamo l'effetto tunnel più che tunnel sono anelli luminosi che vengono incontro abbiamo la sensazione di pace specialmente quando riusciamo a trasferire la coscienza sul corpo luminoso cioè per esempio se uno ha il naso chiuso per l'allergia come succede a me quando mi sposto in concentrazione e quando riesco a trasferire le sensazioni sul corpo luminoso non ho più la sensazione di naso chiuso cioè queste sensazioni di dolore di naso chiuso di impossibilità di muoversi di impossibilità di camminare spariscono per cui abbiamo la possibilità di leggere questo anche senza arrivare in stato di premorte e abbiamo la possibilità di vedere la validità di queste sensazioni ed è importante che noi sappiamo questo perché oltre a questo c'è una sola cosa c'è il corpo luminoso c'è la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e questo dobbiamo sempre tenerlo presente di questo ne parleremo ancora io ho finito la trasmissione magia stregoneria paganesimo vi ricordo che io sono Claudio Simeoni grazie a tutti grazie a tutti